Da qui ai prossimi sei mesi le tensioni sociali aumenteranno in Italia purtroppo, non solo in Italia, ma in Italia aumenteranno. Noi abbiamo una situazione di preoccupazione di cui parlano in pochi sul fatto che il costo della vita sta vedendo un'impennata che non si ricordava forse dai tempi in cui siamo passati dalla lira all'euro. E poi c'è il problema della benzina, poi c'è il problema delle bollette, le materie prime, la carestia in Africa, la siccità, mancano solo le cavallette, pare che in Sardegna ci siano anche quelle. Allora alla fine il concetto è che è un periodo complicatissimo, di fronte a questo periodo complicato il mio appello a tutti i leader politici è da qui a dicembre smettete di litigare tra di voi, smettiamo, deponiamo le armi, lavoriamo perché si aumenti innanzitutto il salario del ceto medio, diamo una mano a chi non ce la fa arrivare alla fine del mese. Poi a gennaio del 23 quando ci sarà da fare a botte metaforiche per la campagna elettorale inizieremo a fare a botte metaforiche. Però ora basta con il chiacchiericcio di fondo insopportabile, preoccupiamoci innanzitutto di parlare di lavoro.